Ciao a tutti Oggi il 13 giugno 2018 Siamo in un bosco sui metri Vedete, ripeti, faccio Il mio posto preferito da me ne dico in un tempo Andate a trovo ciò che si trova Vedete, ripeti, faccio 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Allora partiamo da qua Se ce n'è uno piccolo Ciao a tutti Grazie 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 a tutti Adesso lo raccogliamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti